Un omaggio a Franz Kafka nel centenario della morte e un modo per festeggiare il decennale del centro di promozione musicale Animando. È la rassegna musicale Musica e Metamorfosi, ideata dalla stessa Animando con la nuova stagione dal titolo Evoluzioni, in programma dal 10 novembre al 22 dicembre. Dopo il successo della prima programmazione primaverile, il cartellone propone in autunno cinque nuovi appuntamenti, pensati per offrire una riflessione sul potere evolutivo della musica. Il programma è stato presentato durante una conferenza stampa tenuta alla biblioteca Agorà di Lucca, alla presenza del direttore artistico Stefano Teani, il presidente di Animando Giovanni Del Carlo e l'assessore alla cultura di Lucca Mia Pisano. Questa seconda parte della stagione di Animando 2024 intende completare le celebrazioni per i 10 anni con eventi particolari, uno su tutti, quello su Opportunity, il rover che la NASA ha mandato su Marte e che è rimasto sul pianeta rosso per ben 15 anni invece che pochi mesi come preventivato e che poi ha fatto piangere il mondo col suo ultimo messaggio. Per questo evento abbiamo fatto tutto ex no, abbiamo commissionato un nuovo testo che è stato premiato in un concorso, commissionato brani e allestito qualcosa di molto speciale che vedrete il 15 novembre al Cinema Moderno. Quest'anno l'offerta è incentrata sempre partendo dal 700 musicale a Lucca, al suo interno appunto abbiamo cercato di dare un po' anche di spinte verso un'innovazione, verso una ricerca sia da un punto di vista di artisti sia da un punto di vista di proposte artistiche vere e proprie con delle musiche che sono state realizzate apposta per questi concerti.